Il vasekori invece è un sandalo fantasma. Secondo il folclore giapponese, questi yokai possono sfrecciare per la casa e il suono dei loro passi spaventa i residenti. Quando il proprietario di un paio di sandali ne perdeva uno senza motivo, si credeva che il vasekori si fosse annoiato e se ne fosse andato in cerca di nuove emozioni, lasciando il suo proprietario scalzo. Grazie a tutti.